vediamo chi ce la fa, se resisto più io o la moto il viaggio di 200 km è andato a buon fine, ha resistito più la moto che io il mio culo è una piattella, o per farlo a breve le mie chiappe hanno deciso proprio di prendere il volo perché 200 km su una moto del genere non è proprio possibile farli il motore è sempre stato fluido, bello potente e gestibile l'unica cosa è che ovviamente la velocità è limitata massimo oltre i 110-115 km non si può andare oltre questo, cioè è il top per questa moto in ogni caso è stata una bellissima esperienza come sempre, inoltre il clima è meraviglioso, è una bellissima giornata di novembre e si va ancora con i guanti estivi ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao! 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 ciao!